Sicile per la squadra italiana, si aspetta il rigore, ovviamente l'Italia fuori di questa coppa potrebbe essere una catastrofe. Vediamo chi sarà, il giocatore mi sembra, eccolo lui, è il numero 20, ragazzi, si sta preparando adesso al tiro, il portiere argentino nervosissimo, ecco la rincorsa, siamo fuori, siamo fuori della coppa, un giorno tristissimo, è finito ragazzi. Nada come essere argentino, quando gioca Argentina. Quilmes, sponsor ofizial della selezione.